Un commento pungente di Enzo Paolo Turchi scuote la casa del GF. Ecco cosa pensa davvero di Shaila Gatta. Questa mattina, il cielo sopra la casa del grande fratello, è stato attraversato dai primi aerei con messaggi dei fan per i concorrenti. Inaspettatamente, a ricevere ben quattro aerei sono state due coppie che coinvolgono la stessa persona, Shaila, Lorenzo e Javier. Il triangolo amoroso ha tenuto banco nelle ultime settimane, e oggi la tensione è salita alle stelle. Enzo Paolo commenta il triangolo Javier, Shaila e Lorenzo. I coinquilini si sono riuniti in giardino per assistere all'evento, e le reazioni non si sono fatte attendere. Tuttavia, ciò che ha sorpreso tutti è stato il commento al vetriolo di Enzo Paolo Turchi, veterano della casa, che ha espresso dubbi sul comportamento della ballerina. Da giorni, i telespettatori e alcuni concorrenti notano un certo comportamento ambiguo da parte di Shaila. Se inizialmente sembrava interessata sia a Lorenzo che a Javier, i due ragazzi hanno recentemente iniziato a prendere le distanze dalla giovane, percependo una certa incoerenza nei suoi atteggiamenti. Le sue reazioni agli aerei di oggi non hanno fatto che alimentare ulteriormente i sospetti. Mentre la cucina era in pieno fermento per la preparazione del pranzo, Carmen, Pamela e Luca stavano discutendo dell'ultimo messaggio inviato ai fan di Shaila e Javier. È stato proprio in quel momento che Enzo Paolo ha colto l'occasione per sottolineare una verità scomoda. A ogni aereo cambia versione. Le dichiarazioni notturne di Lorenzo e Javier. Durante la notte, sia Lorenzo che Javier si sono lasciati andare a confidenze private, affermando di essere ormai convinti che Shaila non sia realmente interessata a nessuno dei due. Parole pesanti, che potrebbero far esplodere nuove dinamiche all'interno della casa nelle prossime settimane. La situazione è più incandescente che mai, e i telespettatori non vedono l'ora di scoprire quale sarà il prossimo passo della ballerina.